Rocca Monfina Rocca Monfina Rocca Monfina un luogo splendido un luogo incantevole e questo fine settimana la sagra delle castagne la castagna che ritorna a Rocca Monfina l'ho definita in conferenza stampa alla regia di Caserta proprio la sagra del miracolo finalmente dopo anni tornano le castagne a Rocca Monfina tornano castagne meravigliose squisite, ottime, un raccolto che ho definito divino, ecco noi Roccani viviamo proprio in simbiosi con questi castagneti castagneti che sono compagni di una vita, vederli trasformare a causa di una malattia devo dire che è stata un'esperienza tremenda terribile, ma adesso questo appartiene al passato, i castagneti sono tornati quelli di una volta la castagna è tornata squisita forse ancor più di quella che c'era prima, quindi ne approfittiamo assumerà un valore particolare questa trentonovissima sagra della castagna è stata anche rivista gli stand saranno molto più caratteristici e estrema attenzione alla qualità dei prodotti utilizzati, quindi castagne ma anche funghi, il fungo porcino famosissimo in tutto il mondo di Rocca Monfina allora diamo l'appuntamento sindaco quindi vi aspetto per una squisita tagliatelle funghi porcini e delle calda rosse con dell'ottimo aglianico sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre a Rocca Monfine in Piazza Nicola Amore a Rocca Monfina in Piazza Nicola Amore Grazie a tutti.